Ciao a tutti ragazzi, sono edXmax e benvenuti in questo nuovissimo video Benvenuti in questo nuovo video perché oggi siamo tornati su Brawl Stars Ma oggi andremo finalmente per la prima volta a fare pezzo grosso in video Faremo solo il primo, la prima del primo game Mettete like, iscrivetevi e attivate la campanella Cercate edXmax su TikTok e su Discord, ci sono i link in descrizione Vi aspetto dopo alle 10 in live Giocheremo tutti insieme a Istanbul Day e ci divertiremo molto Facendo server privati Detto questo ragazzi, oggi andremo finalmente Scrivetevi nei commenti se volete video più lunghi Magari vi posso portare tutti i pezzi grosso che riesco a fare in un solo video Però durerà un bel po', scrivetevi nei commenti se volete Detto questo andiamo, intanto le prime partite sono tutte semplici Finalmente vi porto pezzo grosso nei video, facciamo solo la prima partita ragazzi Perché sapete che durano un po' Ovviamente dipende se io sono il pezzo grosso, è più divertente Magari posso portarvi anche due o tre partite Allora Ok lo sto scrivendo Ok ho spiegato un gadget Va bene, perfetto Perché il problema è che se tu non sai se sei il pezzo grosso o no Non puoi sapere che il brawler usare Per esempio Edgar va a difetto per fare il pezzo grosso Però se non sai il pezzo grosso o Edgar non sai per niente Allora Per me perdiamo Soltanto per me perdiamo Non so ragazzi Non so ragazzi Il 59% abbiamo ancora 45 minuti Sì 45 minuti magari 45 secondi Soltanto per me Soltanto per me No sono morto Dov'è Eh sì vabbè Ma che gadget ho usato Eh raga La prima vabbè Ne facciamo un'altra dai Ne facciamo un'altra Non vi preoccupate Ok raga Però ho cambiato brawler Adesso vedete cosa ho messo Ho messo leone Ho fatto bene perché Sono io il pezzo grosso Allora raga Siamo qua Io non posso perdere Adesso io mi nascondo qua Non so se la vinco ragazzi Scusate se sono stato zitto un minuto Ma mi sto concentrando un sacco Non so se riesco a vincere Provo usare la ulti Provo andare da questa parte qui Mister Pingu forse mi vede Sono qua nascosto in questo momento Potrebbe becchiarmi da un momento all'altro Quindi stiamo qua nascosti Non rischiamocela troppo Mi ha visto energetica E questo è il problema Allora raga Scusate se sono stato zitto Prima Perché ero così concentrato Ragazzi sono così concentrato Voglio portarvi una wing Eh raga mancano 35 secondi Eh si deve andare di qua Veloce 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 TixFax Ok 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 Non mi sta vedendo Eh mi ha visto Mi ha visto quello lì Dai Ok Ragazzi Forse l'ha portato a casa Forse l'ha portato a casa la partita Bella partita Winter etixmax Ragazzi Io direi che ne facciamo un'altra Winter etixmax Molto bene Ricordo un like Un'iscrizione Una campanella Cercate etixmax Su tiktok e su discord Ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola donazione Facciamo i link in descrizione Ci vediamo quando inizia la partita Ragazzi sono ancora io il pezzo grosso Non ci credo Non ci credo raga Che fortuna Eh mi ha visto Eh ma non vale Tara Oh Eh raga Dai che la vinci Vuoi vincere di nuovo Ok 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 ragazzi la ultima Vuoi usare il modo Eh ok Ma Tara qui mi dà un po' fastidio Sinceramente Ok Tara è morta Ora noi dobbiamo usare La ultima In migliore modo possibile Adesso Siamo qua Ok ok No non vale Tara Basta Non vale Che tale Con il viaggio Diventerò Ma ci dica Intanto non è ancora uno Poi tanti Ok No ci sono troppi Ok Ok raga Ok Presidiamo il tic Molto male E' stata Tara qui Adesso userà la ultima Un momento All'altro Non intanto Tara è un altro gadget Ok Aspetta Per la ultima Tara Bah Aspetta Qua però non vale Oh basta Tanto adesso Non c'è niente più di gadget Quindi 14 secondi Ok raga Abbiamo vinto di nuovo Ci godo Ragazzi Due volte pezzi grossi Mamma mia Che video Voglio un like Per questo video Ragazzi Andiamo a fare l'ultimo game Dobbiamo essere per tre volte Pezzi grossi Ma è un po' difficile Andiamo a anche aprire Questo cazzo nel plassi Uh Pure un ghiaccio Dobbiamo trovare Molto bene Sono contento E se va a giocare L'ultima partita Poi ci salutiamo ragazzi Vediamo dopo le dieci In live Sì Andiamo un po' È un altro pezzo grossi No non sono io Vabbè vabbè ci sta dai Ci sta Ho dato due volte di fila Ok è lì Allora per me è sbagliato Brawler questo Ha sbagliato Brawler Siamo già al 76 Per 100 Dai Dobbiamo fare di più Dobbiamo fare di più Ho già dato zero i gadget Avvicinati un po' ai xmax Eh ma per me è sto weird Ho proprio sbagliato i gadget Se recupero un po' di vite E poi dopo vado a busciare Ok molto bene Vabbè questo qua Ha perso già Vabbè ma era scarso 8% 2% Bella partita Dai raga Molto bene Vi ringrazio per aver visto questo video E mettete un like In iscrizione E una campanella Cercate 8xmax Su tiktok e su discord Ci sono i link in iscrizione Vi aspetto dopo le 10 in live E ciao a tutti raga Grazie mille per aver visto questo video Ciao